Nel borgo antico di Maramocco sono stati i bambini ad accendere la gioia e l'emozione del Natale per tutta la comunità. Un pomeriggio di felta voluto dalla parrocchia di Santa Maria Assunta con l'associazione Felteggiamenti Maramocco, l'accensione dell'arbero di Natale, la benedizione del parro con Monsignor Cesare Zanusso, poi la recita di Natale dei bambini della parrocchia e l'esibizione del gruppo vocale Mame per Caso. Per la prima volta, grazie anche alla collaborazione del comune, Maramocco ha messo al centro del borgo un suo albero di Natale, tutto illuminato. Tutto questo lavoretto, diciamo, fatto dai bambini, è servito proprio per animare questa serata che vuole essere un anticipo della gioia del Natale. E questo è l'augurio che dall'antico borgo, ecco noi facciamo, ecco la parrocchia con tutta la comunità, a tutti i telespettatori di Antenna 3 Veneto. Auguri di buon Natale. Presente anche l'assessore Michele Zurin. Un momento di felicità, che sia una felicità per tutti, per questo Natale, per tutte le famiglie, per tutti coloro che hanno bisogno. Per il rinnovato direttivo dell'Associazione Felteggiamenti Maramocco, prosegue così un momento di intensa attività. Si chiude questo 2023 di eventi per la nuova associazione, per la nuova direttiva. Siamo contenti perché riusciamo a raggruppare sempre la nostra comunità di Maramocco, che ci risponde sempre positivamente, dagli adulti ai bambini, e siamo molto contenti di questo. Ringraziamo soprattutto tutti i volontari.